Mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che vende al cuore, resta sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Mi chiamo Alberto Conte e mi occupo da una quindicina d'anni di viaggio lento, a piedi in bicicletta. Ci sono arrivato probabilmente perché viaggiavo troppo veloce, io quando avevo 30 anni sono diventato un manager in una multinazionale americana, viaggiavo per l'Italia e per il mondo a velocità eccessive e mi domandavo che senso avesse tutto questo, quindi ho cercato di valorizzare quella che era l'esperienza che avevo fatto in questa azienda facendo qualcosa che fosse un pochino più vicino ai miei interessi. Mi piaceva viaggiare, mi piaceva andare in bicicletta e ho deciso di fare di questa passione un lavoro. Ho mollato tutto e mi sono buttato in questa avventura. All'inizio ho fatto molta fatica, ma dopo qualche anno con pazienza, metodo, ostinazione e testardaggine sono finalmente riuscito a farne una professione. Ho creato un'azienda che si chiama Itineraria e che si occupa di mappatura, di valorizzazione di percorsi a piedi in bicicletta. L'itinerario principale di cui noi ci occupiamo è la Via Francigena, che è questo itinerario che va da Canterbury a Roma e poi a Brindisi. Io l'ho conosciuto all'epoca del giubileo del 2000, mi sono innamorato di questo progetto e poi ho avuto la grande fortuna di poterci lavorare. E oggi mi occupo di tutta quella che è la cartografia, il sito web e la gestione del percorso della Via Francigena. Recentemente da una costola di movimento lento è nato Slow Waze, che è un tour operator che si occupa di viaggio lento, sempre a piedi in bicicletta, quindi sempre nello stesso settore, è una start-up, è la bimba di cui mi sto occupando in questo periodo, che mi assobbia moltissima energia come bimba e quindi contribuisce al mio frenetico lavoro di questo periodo. Il cambiamento, per quanto mi riguarda, riguarda innanzitutto me, le persone che mi stanno vicino, il territorio che mi sta vicino. Io penso che innanzitutto, con una banalità che chissà quante volte verrà detta anche in queste interviste, bisogna cambiare innanzitutto se stessi e le poche persone che ti stanno accanto per creare un vero cambiamento. In questo senso io trovo bellissima la cosa che state facendo voi con questo viaggio in bicicletta nel Baillese, mi ci riconosco molto e mi piacerebbe molto sostenerlo con tutto quello che posso fare. Il cambiamento è fatto di questi piccoli gesti, cose molto apparentemente semplici che però possono per la teoria di vasi comunicanti influenzare poi il cambiamento del mondo. Il biellese, quello che è il mio sogno per il biellese, ma io penso che sia un sogno molto molto concreto, è quello proprio di fare del biellese un autentico laboratorio del cambiamento. Io penso che il biellese abbia tutti i numeri per diventare un punto di riferimento a livello nazionale e che quindi possa incidere seriamente nel cambiamento. Penso che tutto questo possa veramente diventare un bellissimo laboratorio di un'Italia che cambia.